Bella a tutti ragazzi, qui Golis, ben ritrovati sul canale di The Maniac Signori, oggi sono qui con questo nuovissimo video vlog E oggi siamo ritornati sul nostro canale Però, prima di iniziare, sigla! Bene ragazzi, oggi siamo qui per parlare di tante cose Tante cose inerenti al canale, non solo Quindi direi di partire subito col parlare del numero degli iscritti Signori, oggi 5 novembre 2015 Ore 18 e 21 O 21 22 anzi Siamo arrivati a quota 188 iscritti Che è per me un numero che Da quando ho aperto il canale, ovvero il 21 aprile Fino ad oggi Non mi sarei mai aspettato, signori Non mi sarei mai aspettato che 188 persone Potevano seguire le mie stupidaggini Ma non solo le mie stupidaggini Anche le mie informazioni, i miei video E tante altre cose Comunque ragazzi, io sono veramente Veramente contento e felice Del traguardo raggiunto Ora il traguardo è 200 iscritti 2-0-0 Per la fine di questo anno Sono ragazzi che potrebbe essere Una cosa difficile Ma con il vostro aiuto Questa cosa può diventare Realizzabile Questo perché Siamo al 5 dicembre Come sappiamo Dicembre ha 31 giorni Quindi diciamo che più o meno Mancheranno una ventina E qualcosina in più di giorni Quindi facciamo che vi faccio il calcolo preciso Ovvero sono 25 26 giorni Quindi mancano 26 giorni Alla fine di quest'anno E i 200 iscritti Li vorremmo raggiungere Perché questo ci darebbe Veramente una marcia in più Per l'inizio del nuovo anno Quindi ragazzi Arrivare a 200 iscritti Per la fine del 2015 Sarebbe un qualcosa di assurdo Qualcosa di impensabile Per molti 200 Potrà essere anche Il numero più piccolo Di questo mondo Su Youtube Però per noi Per tutti i men Idmaniac È un numero Veramente veramente grande Perché in questi 200 iscritti Ci siete voi Che ogni giorno Lasciate like Guardate i nostri video E quindi valorizzate Il lavoro che noi facciamo Per passione Quindi è una passione Che viene coltivata E da voi Viene apprezzata Quindi il ciclo Diciamo si chiude Quindi ragazzi È veramente qualcosa Di speciale Qualcosa di assurdo Quando voi Guardate i nostri video E lasciate i like E ovviamente Commentate Quindi ragazzi Io vi invito Continuamente A continuarci a seguire Perché Noi non ci fermeremo mai Non ci fermeremo Davanti a nessun ostacolo E ovviamente Sempre con il vostro supporto Andremo avanti Quindi ragazzi Io vi chiedo Per piacere Di condividere questo video Di condividere i video Che più vi piacciono Di condividere Il nostro canale Perché Se noi Arriviamo a 200 iscritti Le novità del 2016 Se abbiamo programmato Che potrebbero essere 10 Nel 2016 Se arriviamo A quota 200 iscritti Per la fine di questo anno Potrebbero essere Veramente Veramente Tante 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 In più Ok Ve l'ho detto 10 per dire Un numero Perché Il primo numero Che mi è venuto in mente Poi Volevo Ringraziare Danny Danny in primo luogo Perché Diciamo È la persona Che mi è più vicina Su questo canale YouTube In questo percorso È la persona Che Diciamo Mi aiuta maggiormente Senza togliere Niente Agli altri Ragazzi Ovvero Pasquale E Gianluca E tutto il resto Daniele Mi aiuta veramente tanto Sia con le novità Sia con le notizie Sia con le analisi Delle armi Se non avete visto Un video di Danny Cioè un video fatto da me Con le parole di Danny Andatevelo ovviamente Subito a vedere Perché è una cosa Che non potete perdervi È qualcosa di spettacolare Ovviamente Se giocate a Black Ops 3 Ancora di più Poi volevo fare complimenti Al nostro Clavatar Che ha raggiunto Diversi giorni fa Le 100 visualizzazioni Su un video Uno dei primi video Che lui ha fatto Quindi Veramente Veramente Tantissimi complimenti Al nostro Clavatar Tanto Qui Questa croce Così a caso Ce la teniamo qui Perché Abbiamo sempre bisogno Di un aiuto Più grande Di quello che potrebbe essere Un aiuto materiale Quindi ragazzi Che dire Voglio ringraziare Infine Pasquale Arturo Gigi Giuseppe E tante altre persone Che ora Potrebbero sfuggirmi Ragazzi Veramente Io vi ringrazio 188 persone Non so che dirvi Sicuramente Se arriviamo A 200 iscritti Ci sarà uno speciale Veramente Veramente divertente Vi annuncio Ufficialmente Che tra di noi Si aggiungerà Di nuovo Una persona Che è mancata Per svariato tempo Nel nostro clan Ovvero Un napoletano doc Per chi è Diciamo Chi segue Un po' di più Il canale Saprà sicuramente Chi è E diciamo E uno dei membri Che Era Faceva parte Del clan nativo Di Call of Duty Ghost Sulla Xbox E che oggi Ha Ufficialmente Acquistato La sua Playstation 4 E quindi Ritornerà Con noi Quindi ragazzi Anche questa cosa Mi rende Veramente felice È un periodo Veramente Un periodo Veramente boom Per dare un aggettivo A questo periodo Veramente un periodo boom Per quanto riguarda Mea Va tutto Alla stragrande Quindi ragazzi Io vi saluto Qui Vi invito A lasciare un bel like A questo video Ragazzi State un po' più attivi Su questo canale Perché mi fate morire Che quando non commentate Quindi commentate Commentate Non mi mettete paura Di commentare Domande Risposte Insulti Complimenti Fate tutto quello Che volete Basta che commentate Perché ovviamente Valorizzate ancora di più Questo lavoro Che noi facciamo Quindi ragazzi Da Gollis è tutto Qui domenica Enjoy Ciao